Salve a tutti ragazzi sono Sam Primomenzo e benvenuti in questo nuovo video sul mio canale siamo tornati qui con un nuovissimo episodio dedicato alla carriera a natore con il nostro se vi siete persi l'episodio precedente mi raccomando ragazzi andatelo a recuperare perché è successo l'impensabile io non credevo potesse succedere una cosa del genere quindi andate a recuperarlo e fatemi sapere se anche a voi è successa la stessa cosa mi avete detto ad alcuni è successo effettivamente che avrei dovuto rimettere quel tal giocatore in campo subito però non lo sapevo e siamo alla fine del mercato di gennaio e ci saranno le ultime dieci ore di fuoco perché qualcosina proveremo a farla ma ragazzi non sono convinto di riuscirci perché perché abbiamo pochi soldi anche fare prestiti con diritto di riscatto con le trattative rigide non è facile e i soldi per acquistare a titolo definitivo sono pochi una cosa che potremmo fare è fidarci dei nostri giocatori in questo momento come ci tengo sempre a ricordarvi siamo una neopromossa e ci sta a avere momenti di difficoltà è realistico ok? prima di cominciare come al solito in descrizione vi ricordo che potete seguire i passi per partecipare al giveaway di OneFootball è ancora attivo scadrà il 10 di gennaio quindi correte in descrizione scaricate l'applicazione OneFootball applicazione calcistica quella che utilizzo io per restare aggiornato sul mondo del calcio seguite tutti i passi e partecipate al giveaway che vi darà la possibilità di vincere parte di un milione di FIFA points mi raccomando link in descrizione intanto che avanzo con le ore di mercato ragazzi e vediamo se riusciamo a fare qualche sessione nelle ultime ore se no poi mi tuffo io abbiamo deciso il giocatore del mese e la giocata del mese infatti anche nello scorso episodio Rodrigo ha segnato una valanga di gol ed è stato una spanna sopra agli altri ragazzi purtroppo spiace per gli altri giocatori che comunque si stanno impegnando Rodrigo in questo momento è mostruoso è una spanna sopra e vince anche il giocatore del mese di gennaio il premio giocatore del mese di gennaio per quanto riguarda invece la giocata del mese di gennaio ho inserito seguendo i vostri consigli la parata di Mellier contro l'Everton il gol di Roberts contro la Stonevilla e il gol di Gellard contro il Southampton bene vince Mellier vince la parata di Mellier quindi è il terzo premio di Mellier ragazzi purtroppo non è servita a niente però davvero un ottimo intervento quindi complimenti a Mellier che si porta a casa il suo terzo premio attenzione perché fra due premi ci sarà anche il rinnovino di contratto e non sta succedendo praticamente nulla qua c'è un interesse per Cook a questo punto signori potremmo intervenire allora ho inserito qualche altro nome nuovo fresco per quanto riguarda la difesa centrale ragazzi però l'unico che si potrebbe provare a prendere ma non credo che la Stonevilla lo voglia dar via in prestito è Minks ma veramente anche qua non li vogliono dare in prestito questi giocatori quindi io in caso di fra un mese tra poche settimane dovrebbe tornare Cooper però potrei spostare Eiling difensore centrale e Shackleton terzino destro quindi io in difesa non andrei a prendere nessun altro e fare un investimento importante il prossimo anno per quanto riguarda gli sterni un giocatore fattibile credo possa essere Wamanji Tuka ora io non l'ho mai provato penso possa avere caratteristiche molto importanti quelle che servono a noi e il suo valore non so quanto possa essere sinceramente non so se si avvicina a Harrison anche Solomon un giocatore che conosco James è imprendibile davvero troppo costoso sono tutti giocatori che possono giocare su entrambe le fasce però ho inserito anche Gnipo ve l'avevo già fatto vedere la scorsa volta e qui abbiamo il nostro Harrison se no Eze si è appena trasferito Limorte Barnes secondo me costa tantissimo allora torniamo su Harrison ragazzi allora possiamo provare a contattarlo per il pre la durata del contratto il giocatore è troppo breve per convincere Clavo a lasciarlo partire ok fantastico se provassimo a contattare per l'acquisto di Harrison a titolo definitivo vediamo Guardiola cosa mi dice purtroppo ragazzi Harrison lo dobbiamo abbandonare mi dispiace perché non dico che mi ero affezionato però sapete seguendo anche il Leeds nella realtà mi sarebbe piaciuto tenerlo Harrison oh mio dio oh mio dio Menzo T-Rex incoming poi poi il contratto oh signor allora Eze mi interessava molto però anche questo Wamanjituka io un altro esterno ragazzi lo andrei a prendere so dai proviamo Solomon proviamo Solomon oh la Peppa e Solomon è assolutamente imprendibile ragazzi c'è questo Wamanjituka certo che non è proprio il mio esterno è un metro e novanta poi magari corre sì effettivamente corre perché ha le stelline qua proviamo ragazzi ah cavolo ah cavolo non eravamo molto lontani eh forse se gli avessi offerto Costa però non so quanta Wamanjituka cioè non non lo so lo Stocarda non si muove lo Stocarda non si muove vediamo se magari dandoti un Peter Potter selvatico possiamo anche trovare un mamma mia che trattative serrate proprio hanno bisogno di tempo dubito accetteranno ragazzi eh io mi sa che concluderò il calciomercato senza un acquisto non so perché ma ho questa sensazione inaccettabile per Wamanjit oddio mio 7 milioni e 7 ragazzi ce lo stanno regalando giustamente il gioco quello che doveva fare l'ha fatto incredibile veramente incredibile cioè a sto giro il gioco mi sta venendo incontro a sto giro il gioco mi sta venendo incontro mi sembra un'offerta equa anche a me anche a me sembra un'offerta equa molto equa ma Harrison se praticamente ti annulli il lo stipendio è fatta è fatta puoi tornare da noi se ti annulli lo stipendio se vuoi davvero tornare da noi questo è quello che devi fare annullarti lo stipendio ti do tutto quello che ho ti do tutto quello che ho Harrison offerta per il trasferimento per Calvin Phillips l'Inter quanto vorrei che l'Inter nella realtà si tuffasse su Calvin Phillips ovviamente rifiutiamo questa offerta che è sicuramente alta però infattibile signori si conclude qua il calcio mercato e noi e tra l'altro mi sono accorto adesso che abbiamo davvero un bellissimo mese perché abbiamo Brighton Chelsea e Manchester City ovviamente finale di Carabao io non so con che formazione si presenterà il buon Manchester City qui abbiamo ma Geneppo no scusate Geneppo è prendibile perché si può prendere pure adesso Geneppo andiamo in campo così signori concentrati tranquilli signori siamo contro il Brighton possiamo assolutamente farcela andiamo in campo sempre sul pezzo e forza Litz facciamola girare non c'è fretta Richards scambia con Somerville appoggio per Rodrigo attenzione perché Richards si spinge in avanti Richards col mancino Richards e c'è il vantaggio del Leeds con il primo gol di Richards quanto spinge il nostro Omar Lamptey se non sbaglio non lo tiene bene e batte non mi ricordo chi è il portiere del del Brighton quello australiano non mi ricordo come si chiama Arambarri spinge ancora Richards che prende sempre il tempo a Lamptey al centro c'è Bamford la mette in mezzo Richards Bamford colpisce ed è 2 a 0 ma ancora che cosa ha fatto Richards oh mio dio signori ma che freccia è ma poi che piede c'ha ma poi che cross fa ma guardate che splendore poi bravissimo Bamford la tira centrale però appunto Ryan è vero è Ryan Ryan non può nulla perché il colpo di test è veramente molto potente ci arriva ma la palla finisce comunque in rete attenzione perché ho visto una roba brutta 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 Marca miseria anche col Chester mi purgava sempre ok ancora Gonzales per Molumbay Melie Melie con una grande parata questa è una grandissima parata finalmente finisce il primo tempo partita molto divertente dobbiamo cercare di chiuderla però perché può diventare molto pericolosa no ti prego Melie bravo 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 bravissimo mamma che rischi però che prendiamo ragazzi dobbiamo chiuderla Bamford ti prego Rodrigo ho bisogno di te Rodri ho bisogno di te Rodri ormai piango ve lo giuro ragazzi perché è molto molto faticoso ma è molto molto divertente 3-1 Leeds e anche oggi i nostri tre gollettini li abbiamo fatti bravissimo Bamford bravissimo Bamford devo dire ok ma è incredibile ma è incredibile gli spazi che trovano sono fuori di testa gli spazi che trovano sono veramente fuori di testa occhio ragazzi perché è probabilmente una delle ultime azioni del match non possono trovare no cosa ma è finita la partita cosa c'è da fischiare è finita la partita cosa c'è da fischiare con la partita finita ma cosa fa tira proper bravo proper finisci qui signori vinciamo 3-2 mi sono reso conto che ho paura cioè gioco con la paura gioco con la paura di prendere gol di prendere il pareggio di ora forse capisco veramente cosa si prova cosa provano i calciatori quando si trovano in quelle difficoltà in quelle situazioni di difficoltà giocano con la paura ed è brutto è brutto ragazzi perché io avevo paura di sbagliare adesso signori rimaniamo chiaramente in campionato e abbiamo il Chelsea che ha una lunghezza sopra di noi questa è la situazione in classifica siamo sesti a 42 punti andiamo in campo così signori sempre sul pezzo e forza ovviamente l'Itz Phillips dalla bandierina dove c'è Werner in realtà occhio questa ripartenza Pulisic contro Richards buona chiusura ancora Richards e c'è vabbè una bella stecchina come si dice un po' per il realismo vabbè non aveva fatto una chiusura clamorosa prima occhio a Somerville punta Bernat se ne prova ad andare con una finta una suolata Bernat ritorna perché c'è il taglio di Bamford servito Bamford ce l'ha sul destro torna sul mancino dalle parti di Somerville è tornato Bernat e la parla l'est sta lì e il Leeds è in vantaggio con Somerville mamma mia fortunati devo dire ma perché sbucano dal di là i giocatori fortunati qui molto fortunati però abbiamo sfruttato a pieno questa dose di fortuna perché qui Somerville perde il pallone poi si incespicano i giocatori del Chelsea incredibilmente il pallone torna proprio a Crescensio che firma l'1-0 per gli Whites che brutto pareggio che abbiamo preso ragazzi che brutto pareggio davvero veramente davvero veramente orribile orribile devo dire perché avevo letto tutte le situazioni e in tutte le situazioni non ci sono arrivato qua per esempio con gli oriente boh Melie non è uscito Guay non si sa e alla fine Werner la mette in porta così certo che è anche questo che gollettino del cavolo proviamo a riutilizzare la fascia sinistra che funziona sempre Richards al centro Bamford arriva anche lungo Rafinha Richards la mette in mezzo perché non mi dà Bamford dai Rafi ti prego bravo Rafi occhio Bamford entra in area non c'è spazio però occhio perché Arambarri si gira bene su cante Arambarri deve intervenire Kepa tempo scaduto comunque vediamo se riusciamo a fare il gollettino classico Rafinha dal calcio d'angolo dove c'è Rodrigo che prova a staccare niente da fare oh ci siamo ancora ah niente finisci quel primo tempo 1 a 1 no 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 eh ma quanto corre è andato quanto corrono sti giocatori ragazzi quella scivolata di guai mi vengono i brividi niente da fare per me lì e qua ma mi ha click ma ma che spettacolo di stop e giocata c'è Rodrigo non so se non so se è in fuorigioco non mi interessa non lo è 2-2 Leeds pareggio degli Whites con Roberts Leeds Whites Roberts e andiamo signori ma che questo è un gol veramente bagatissimo spazio l'ha lasciato alla figna servizio perfetto poi il gol della shit troppo semplice per Roberts ormai si incartona l'abbiamo pareggiata raga l'abbiamo pareggiata incredibile con calma non usciamo stecca avete tutti il rosso da spendere anche tu Richards stecca tutti no no calmo concentrato concentrato siamo nel recupero ragazzi 3-2 Chelsea Timo Werner devo dire una disdetta niente male e finisce qua il Chelsea batte Leeds 3-2 è peccato perché avevamo fatto davvero un'ottima partita forse non meritavamo di tornarci a casa con 0 punti veramente un grande peccato veramente un grande peccato occhio a Diego Ricci occhio a Diego Ricci ingaggiamolo e magari gli diamo pure un'occhiata a Diego Ricci 17-63 insomma cioè non è clamorosamente forte diciamo come overall avesse avuto qualcosina di più forse ci poteva stare beh io comunque lo promuovo in prima squadra ragazzi devo dire mostra un ottimo potenziale tra l'altro mi piace molto anche il viso la faccia che gli hanno fatto signori voi non ci crederete mai ma abbiamo la finale di Carabao Cup contro il Manchester City veramente qualcosa di incredibile signori andiamo in campo sempre sul pezzo e forza Leeds per questa finale di Carabao Cup andiamo si può fare si può fare perché comunque è vero che il Manchester City è con buona parte dei titolari bisogna vedere anche le motivazioni con le quali il Manchester City si presenta a questa finale ok da capire ci sono tante variabili però ci dobbiamo assolutamente godere questi momenti a pieno perché non possono accadere sempre certo deve essere nei nostri obiettivi però non sempre le cose vanno come uno desidera guardate Aguero ma Richards mamma mia ragazzi poi sbaglia l'appoggio ma che grande chiusura occhio di Bruin ancora Richards su di lui c'è Aguero queste queste palle così tagliate non riesco a fermarle ragazzi non riesco a fermarle 1-0 Manchester City cioè cosa devo farli peccato vantaggio Manchester City Arambarri occhio a Rodrigo si chiude il City Phillips Eling non so che palla fosse ma ci siamo Rafinha ancora Steffen ancora Steffen vado con Rafinha a battere questo angolo bello sul primo pallo dove c'è Rodrigo Rodrigo pareggia i conti su calcio d'angolo battuto proprio da Rafinha c'è il pareggio dell'Its bello stacco non facile su Stones se non sbaglio non può nulla Steffen è passato Bernardo Silva attenzione perché c'era sul mancino De Bruin c'è il taglio Melie era in posizione regolare Bernardo Silva ci salviamo Phillips Summerville dobbiamo ripartire fortissimo ragazzi non so che altro fare se no Bamford il taglio di Rafinha a palla forse un po' troppo lunga forse no forse si c'è Zinchenko che è largo nella marcatura attenzione al sinistro di Aaron Barry nulla da fare finito il primo tempo bravo Richards bravo eh vabbè immaginavo però almeno abbiamo fatto concludere le azioni occhio qua c'è molto spazio lasciato Llorente per un attimo poi non riusciamo a vincere il contesto con Bernardo Silva mi sembra assurdo poi alla fine ce la facciamo Stabo Summerville passa da c'è dove c'è l'aratro attenzione all'aratro Aaron Barry col destro da fuori ci ho provato ragazzi avevo bisogno di lasciare andare un po' di tensione occhio a Rafi portami via l'uomo sì ma dai signori siamo al 75esimo e devo fare qualche cambio devo fare qualche cambio e io ragionerò anche su questa cosa qua forse fuori Bamford dentro Roberts fuori Rambari dentro Click Mamma Llorente che chiusura Melie ma guarda che roba ma cosa c'ha la calamita dagli una stecca neanche con la stecca comunque la lucidità che hanno questi Melie Melie la lucidità che hanno questi grandi giocatori è pazzesca veramente Melie no scusate ho bisogno di fermarmi e di rivedere la parata di Melie ragazzi a botta sicura praticamente con la spalla Melie finisce qui la finale di Carabao Cup finisce 1 a 1 ma porca putt ma non ci sono i rigori scusate ma non ci sono stati i rigori fino a vabbè io non ci capisco mai nulla una volta fanno i supplementari una volta fanno i rigori mamma mia mamma mia sì però ragazzi io non reggo cioè io non reggo proprio mentalmente l'ho visto? l'ho visto? naggia la miseria mentre gli passo a fianco occhio Richards comunque ho serie difficoltà a scegliere un eventuale giocatore del mese perché Richards ha fatto qualcosa di incredibile sto mese ma anche Melie per il momento dai ragazzi Roberts Helder Costa prova una finta ce l'ha sul mancino torna dalle parti di Roberts Phillips click Rodrigo scambia con Roberts prova ad andarsene a Stones attenzione Roberts sul destro Roberts lo prova ma nulla da fare non riusciamo neanche a far intervenire Stephen è finita c'è quel taglio l'ho visto è finita non riusciamo neanche non riusciamo neanche a far intervenire non riusciamo neanche a far intervenire la farine l'ho visto è finita l'ho visto Grazie a tutti. Grazie a tutti. Forse anche di nuovo una delle parate di Mellie potrebbe starci. Tre giorni di stop per Rodrigo. Altro infortunio, tre giorni di stop per Rodrigo. Ed entriamo in marzo, dove abbiamo solo campionato adesso. Quattro partite di campionato. Signori, io vi saluto perché è il momento di salutarsi, decisamente. Lasciate un mi piace, commento e consiglio. Continuate a supportare la serie e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi.